Quando hai capito che avresti fatto il giornalista? Alle medie, quando la professoressa di italiano Letizia Formia mi diceva che i temi sembravano degli articoli di giornale e non dei temi. Quando una fidanzata mi ha detto, visto che tu mi scrivi delle così belle lettere d'amore, perché non fai un giornalista?